Ciao a tutti ragazzi, sono Malino, anzi no, sono Malino22 e oggi siamo qui con il secondo episodio di Techaldo, che per chi non lo sapesse è una serie dove racconto e dico la mia su quello che è successo nel mondo Inter nell'ultima settimana. Per questo episodio ho deciso di concentrarmi ovviamente sulla semifinale di andata di Coppa Italia tra Inter e Juventus, che è stata giocata martedì, e su Fiorentina-Inter, in particolare concentrandomi sulla prestazione di un determinato giocatore. Per quanto riguarda la semifinale tra Inter e Juventus, che si è giocata a San Siro, la semifinale andata, e che domani invece vedrà il ritorno appunto allo Juventus Stadium, per quanto riguarda questa partita ho deciso di rispondere al video di uno YouTuber, Luca Toselli, che è uno dei più famosi YouTuber juventini, che diciamo si è detto abbastanza arrabbiato per alcune dichiarazioni effettuate sia da opinionisti, sia da giornalisti, sia in generale da tifosi, si è detto alquanto arrabbiato per queste dichiarazioni sulla partita. Così ho pensato di rispondere direttamente a lui con quello che è invece il mio pensiero. Allora, come prima cosa vorrei soffermarmi su quello su cui io sono d'accordo con Luca Toselli, perché lui ha detto due cose secondo me molto vere e su cui appunto ripeto concordo anch'io. La prima è il fatto che comunque lui ha detto che il tifoso medio semplifica un po' troppo le cose, cosa assolutamente vera, l'ho anche sostenuta più e più volte io. E come seconda cosa su cui sono d'accordo è il fatto che lui ha detto che l'intervista della Rai post partita a Pirlo è stata scandalosa e sono d'accordissimo, perché la Rai piuttosto che soffermarsi effettivamente su come Pirlo l'ha preparata, sul perché ha fatto determinate scelte, su quello che è successo in campo, ha preferito soffermarsi sulla reazione di Cristiano Ronaldo una volta che era uscito dal campo, che appunto ha avuto una reazione diciamo di frustrazione e di rabbia, concentrandosi solo ed esclusivamente su Ronaldo e dimenticandosi tutto il resto, che è molto più importante, i 90 minuti che si sono giocati piuttosto che il singolo episodio di Ronaldo che esce arrabbiato dal campo. Quindi diciamo questi due sono i punti su cui io concordo con lui e per cui secondo me lui ha fatto bene diciamo a arrabbiarsi. Non concordo però sulle sue critiche riguardo coloro che dicono che la partita è stata regalata dall'Inter, perché lui ha iniziato a dire eh no allora che vuol dire che Pirlo non l'ha preparata, che la Juve non si è allenata, no perché aspettava il regalo dell'Inter. Questa cosa a mio avviso non c'entra niente perché è ovvio che Pirlo l'abbia preparata e secondo me l'ha preparata molto meglio di quella di campionato, ma comunque tatticamente la Juve non ha giocato meglio dell'Inter, cioè la partita tattica, la prestazione tattica è stata comunque migliore dell'Inter. Due ingenuità clamorose di Ashley Young e di Bastoni e Andanovic entrambi, forse anche più Andanovic che Bastoni, comunque non è questo l'importante, delle ingenuità clamorose hanno fatto sì che concedessimo due gol alla Juve per cui loro ci hanno superato e ok, questo però non va in contrasto con il fatto che il tifoso medio semplifica, oppure ancora non significa che la Juve e Pirlo non abbiano preparato la partita, però poi va analizzato quello che è successo in campo e l'hai detto anche tu, cioè l'ha detto anche lui, ossia lui dice analizziamo quello che è successo in campo e questo è quello che è successo in campo, delle ingenuità clamorose dei nostri giocatori vi hanno regalato due gol. Questo significa che Pirlo non l'abbia preparata? Che sia stato lì a dire no, aspettiamo i regali dell'Inter? No, assolutamente, i regali sono avvenuti lo stesso. Secondo me per analizzare una partita ci sono appunto tre fattori, cioè va analizzata una partita secondo tre aspetti, la prestazione tattica, la prestazione dei giocatori e infine il risultato. Questi sono i tre aspetti principali che vanno analizzati in una partita. Il tifoso medio, come ha detto anche Luca Toselli, ha un problema di soffermarsi solo ed esclusivamente sul risultato e poco sulla prestazione tattica e la prestazione dei giocatori. Con prestazione dei giocatori che intendo che per esempio può anche essere che, che ne so, lo spezia per dire italiano tatticamente prepara una partita molto meglio di Conte, cioè spezia Inter, l'italiano la prepara molto meglio di Conte, poi comunque resta il fatto che italiano ha in campo dei giocatori più scarsi di quelli di Conte e quindi anche se tatticamente lui ha vinto la partita, tra virgolette, alla fine poi la prestazione in campo dei giocatori fa sì che la partita la vinca comunque l'Inter. Quindi diciamo che poi la combinazione dei due fattori, prestazione tattica e prestazione dei giocatori, la combinazione di questi due fattori fa sì che si arrivi al terzo fattore, ossia il risultato. Qualora la differenza di giocatori, di potenzialità dei giocatori è tanta, anche una prestazione tattica migliore dell'allenatore della squadra più scarsa potrebbe non bastare per vincere la partita. Ora, il fatto che lui dica che tatticamente Pirlo ha fatto una grande partita, secondo me non è vero, non è vero. È stata la prestazione dei giocatori in campo che è stata superiore a quella dei nostri giocatori perché appunto hanno fatto delle ingenuità clamorose ai nostri giocatori che hanno portato i due gol della Juve e per cui si è portato a dire che l'Inter l'ha regalata. Poi è ovvio che quella è una frase generalista che va analizzata, però in quei due episodi quello che è successo è stata effettivamente questa, perché la prestazione dei giocatori della Juve è stata superiore. In più lui si è lamentato anche del fatto che il gol di Ronaldo, quello non su rigore l'altro, è stato comunque diciamo propiziato anche dal pressing della Juve, cosa che secondo lui non è stata sottolineata. A me personalmente invece sembra che la Rai l'abbia sottolineata molto questa cosa. Comunque insomma in generale questa era la risposta che volevo dare, che usando le sue stesse parole bisogna analizzare quello che è successo in campo e quello che è successo in campo è che l'Inter ha regalato due gol per ingenuità e non è vero che tatticamente Pirlo ha preparato la partita meglio di Conte, l'ha preparata meglio di quella di campionato che aveva preparato lui stesso, ma non meglio di Conte, secondo me. Per quanto riguarda invece Fiorentina-Inter sarò molto breve perché come detto mi volevo soffermare solo ed esquisiente sulla prestazione di un giocatore che è Alexis Sanchez e per farlo riporterò le parole che io stesso avevo detto nel primo tè caldo, ossia io spero che noi in questa seconda parte di campionato potremmo avere Sanchez al 100% perché averlo al 100% e quindi appunto non in infermieria come purtroppo è stato nella maggior parte del periodo in cui è stata l'Inter, se riusciamo ad averlo al 100% Sanchez è una risorsa fondamentale per questa Inter e ripeto io spero con tutto il cuore di averlo non in infermeria ma disponibile in questa seconda parte perché così tutti ci accorgeremo che il fatto che sia saltato questo scambio non è poi una cosa così grave, nonostante ripeto Dzeko, un giocatore come Dzeko serva come il pane all'Inter ma serve anche Sanchez. E sono molto contento che Sanchez già dalla prima partita dopo queste mie parole abbia dimostrato che può dare una grande mano perché Sanchez ha fatto una grandissima partita a Firenze, ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore di qualità che può servire tantissimo all'Inter, sia per far rifiatare i due davanti che le giocano tutte, sia per farci vincere delle partite ripeto con le sue qualità che sono comunque straordinarie. Comunque il video è finito, ciao a tutti!